Continuiamo il nostro percorso sulle classi andando a vedere quelle che sono le classi astratte. Le classi astratte sono un validissimo metodo in TypeScript, molto molto apprezzato, che va un po' a completare quello che è lo spettro della definizione dei type e soprattutto è una versione, secondo me, avanzata di quelle che sono le interfacce. Ma andiamo subito a vedere quello che è una classe astratta. Ci riprendiamo l'esempio appunto di prima, in cui andiamo a definire la nostra classe, che chiameremo appunto TakePhoto, che avrà lo stesso tipo di soluzione in cui avremo appunto Public Camera Mode, vedremo che è una stringa e poi Public Camera Mode, che diremo che è un booleano. Ora abbiamo questa soluzione che non è più necessaria e la nostra classe di per sé è pronta all'uso. Ora abbiamo ridefinito la nostra classe. A questo punto possiamo andare a provare a creare un'istanza, quindi const, chiamiamola foto, appunto, sarà New TakePhoto, Camera Mode, chi se ne fotte square, quelli passiamo, quello che è il valore di true. Proviamo a andare a passare quello che è il valore di abstract alla nostra classe e otteniamo quello che è un errore che ci sembrava strano e assurdo, ovvero che un'istanza non può essere generata da quella che è una classe astratta. Quindi una classe astratta non può andare a creare una nuova istanza. E allora che cosa me ne faccio di questo tipo di soluzione se poi non può questa classe andare a creare nessuna istanza? La soluzione è che sono le nostre classi che stendono, quindi che vanno appunto a godere della probabilità di inheritance, a occuparsi di generare quelle che sono le istanze. Quindi Instagram a sua volta invece potrà andare a creare una sua istanza. Quindi non potremo creare utilizzando TakePhoto, ma possiamo andarle a creare con quelli che sono i suoi figli. E uno dirà, ma che me ne faccio di questo? Questo tipo di soluzione va a portarci a rappresentare quello che è uno schema appunto di un'interfaccia, quindi replica il comportamento di quella che è un'interfaccia, quindi se io qua andasse a definire quello che è un metodo abstract TakePhoto, come vedete ottengo quello che è un errore. Questo perché? Perché tutti i figli appunto che partono da quello che è il valore di TakePhoto devono per forza andare a implementare il loro metodo appunto di TakePhoto. Per fare questo appunto la classe deve essere ri-istanziata. Deve essere ri-istanziata, possiamo andare a togliere questa cosa qua che a un momento non ci interessa onestamente. Quando poi andiamo a generare una classe nuova partendo dall'estensione di una classe precedente, dobbiamo andare poi a riprodurre il costruttore e passare quella che è la parola chiave super per passare appunto alle proprietà che vengono ereditate dalla classe precedente. Qua non è niente di TypeScript e siamo proprio di fronte alla costruzione di una classe banalmente in JavaScript. E poi andiamo a implementare il nostro metodo TakePhoto. Qual è quindi il vantaggio rispetto a quella che è la creazione dell'interfaccia? Beh, il fatto è che un'interfaccia, come dicevamo, così come una classe astratta, lo scopo appunto è di essere una blueprint, quindi un punto di partenza, uno scheletro su cui costruire tutto il resto. E questo lo andiamo a generare utilizzando quello che è il metodo di Abstract, o la parola chiave Abstract. Quindi funziona nella stessa maniera, ma il vantaggio è che se io appunto volessi definire un metodo che si chiama ShowPreview, ecco che io vado a definire ShowPreview, ShowPreview appunto farà console.log di ShowPreview. Questo è un metodo che una volta generata un'istanza io potrò avere appunto su quelli che sono tutte le classi appunto che vengono generate a partire da TakePhoto. Quindi un metodo che io condivido di default con tutti i figli di questa classe. Mentre il metodo TakePhoto andrà ridefinito nuovamente ogni volta che creerò appunto una nuova classe a partire da TakePhoto. Ogni, a me non interessa, alla nostra classe astratta non interessa cosa questo metodo faccia, infatti io qua non vado a definire nessuna logica in questo metodo, deve solo esistere e ritornare appunto void. Poi ogni classe andrà a definire il suo metodo di creare una foto. E questo sicuramente è il primo vantaggio, quindi ci dà sì la possibilità di indicare, così come con le interfacce, come vogliamo che sia creata la nostra classe, ma ci dà anche la possibilità di andare a dare dei metodi di default che sono comuni a tutti i figli di questa classe. Dopodiché, come abbiamo anche visto, posso andare appunto anche a avere una definizione un pochino più semplice di quelli che sono di quelle che sono le variabili con protected, private, che abbiamo visto che giocando con le interfacce non è così intuitivo andare a lavorare con queste parole chiave. E posso poi andare nelle mie classi o volendo appunto a riscrivere quello che è il metodo di show preview, posso andare a riscrivere e dire che torna a show eg preview. E poi posso andare a fare tutto il mio giochino di get photo taken e fare tutte quelle operazioni che abbiamo visto che possono essere appunto fatte con quello che è i nostri getter. E quindi con le classi astratte, diciamo per riassumere un po' quello che succede, una classe che quando viene definita astratta non può andare a generare un'istanza a partire da se stessa, ma solo appunto i suoi figli potranno, tutte le classi che stendono a partire da quella che è appunto una classe astratta, loro potranno generare delle istanze, mentre la classe astratta non potrà generare istanze. Nella classe astratta generalmente non si vanno a implementare dei metodi, ma si va a definire quello che vogliamo che effettivamente ci sia, marcandola come con il metodo abstract. Il metodo abstract su take photo obbliga tutti i figli che stendono a partire da take photo ad andare a istanziare o comunque avere in se stessa definire un metodo chiamato take photo che l'importante non è la logica che c'è all'interno ma che ritorni void. Abbiamo poi il piacere di poter, a differenza dell'interfaccia, andare a creare dei metodi o comunque alcuni elementi come appunto photo taken o show preview che sono condivisi appunto a tutti, a cui comunque possono accedere e possono essere ereditati da tutti appunto i figli della nostra classe. Quindi sono il metodo forse un pochino più avanzato che ci fa godere di tutti i benefici della definizione dei type, quindi di avere uno scheletro come se fosse un'interfaccia e la flessibilità di andare a definire all'interno delle classi, grazie alle prolechie di protected, private e public, tutte le proprietà che la nostra classe andrà poi a istanziare sulla sua istanza.